Lunedì 15 novembre, Sant'Alberto Magno. È il 319esimo giorno dall'inizio dell'anno, ne mancano 46 al termine. Il sole si alza alle 7 e 9 minuti e tramonta alle 16 e 41 minuti. La luna si leva alle 15 e 18 e tramonta alle 2 e 46. 1524. Viene approvata dal Senato la legge che obbliga gli ambasciatori, i rettori, i provveditori e i sindaci a depositare entro 15 giorni le loro relazioni, consigli e quant'altro affinché venissero registrate in uno speciale libro tenuto al sicuro nella Cancelleria Ducale. Le previsioni per domani. Cielo da molto nuvoloso a coperto salvo locali fasi di schiarita nelle prime ore. Si prevedono precipitazioni da sparse relativamente diffuse soprattutto su pianura e prealpi. Temperature in diminuzione specie nei valori massimi, venti di debole intensità provenienti da nord.